eccoci in un nuovo video in questo video qua vi porterò nei dintorni di sansevierino marche e andiamo a scoprire quello che c'è da vedere nei dintorni iniziamo dalle piccole cose da quelle vicino casa mi trovo vicinissimo al cito e sono davanti all'abbazia di valfucina questa abbazia che è questa qui alle mie spalle è stata costruita alla fine dell'undicesimo secolo e pensate che al suo interno aveva una grandissima biblioteca che conteneva 398 pergamene che però poi nel corso degli anni sono state prese e portate negli archivi del comune di sansevierino marche pensate un po che queste pergamene qui abbracciavano addirittura quattro secoli di documenti c'è quattro epoche incredibile peccato però che non si possa entrare perché purtroppo la zona è sottoposta a terremoti di conseguenza tante cose che ha combinato il terremoto negli scorsi anni e spero che non ne accada più sono state chiuse come per esempio appunto la chiesa questa qui alle mie spalle l'unico peccato di questi posti qua è che guardando da google sembrano tutti aperti però google non è aggiornato sul fatto che col terremoto molte strutture molte chiese molte cose da visitare e addirittura anche alcuni tratti di strada sono chiusi e conseguenza arrivi nel posto e scopre tutto comunque abbazia di valfucina l'abbiamo fatta let's go adesso mi trovo a castel san pietro che è quest'altra piccola frazione sempre nel comune di sansevierino marche si trova proprio in mezzo tra il cito valfucina dove siamo stati prima e isola che è la prossima tappa l'unica cosa bella e ancora visibile che non mi è successo niente è questa chiesa ma ovviamente è chiusa perché come al solito siamo sempre allo stesso discorso su google tutto da aperto poi arrivi qua di persona e purtroppo trovi tutto chiuso e poi soprattutto cosa stranissima ho tirato sul drone che ho fatto le riprese dall'alto e tutto il tempo un signore è uscito di casa col cane si sono messi lì a guardarmi brutto 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 e quando sono passato con la macchina si era pure avvicinato al cancello per dirmi qualcosa ma ho evitato e poi vado a far rivedere il castello d'isola che è l'ultima tappa anche perché il sole ormai sta calando comunque la cosa bella dei posti qua non è tanto il vedere quello che c'è all'interno di queste piccole frazioni ma è che queste colline che ogni sguardo vedi una collina una curva un gioco di luci tutto il verde c'è tutta la natura è incredibile e questa cosa è uno dei principali motivi per cui sono qui nelle marche ed è bellissimo è veramente bellissimo alle mie spalle in questo parcheggio ampio che è adibito a parcheggio perché l'ho deciso io c'è comunque un country house bar ristorante che si trova sempre proprio a due passi dalla chiesa di di castello san pietro e poi comunque lungo la strada dietro a quel colle là c'è il cito e la val fucina dove siamo stati prima quindi forse chissà magari questo country house ristorante qualche volta è anche aperto all'interno di questo piccolo cimitero c'è la chiesa di san clemente che ormai è diventata la cappella di castello san pietro cosa c'è di particolare adesso provo ad entrare perché ho porticina lì è aperta all'interno della chiesa di san clemente è murata una rara scritta a carattere gotici del 1223 che ricorda l'imperatore federico ii di svevia e il papa onorio terzo quindi giusto perché c'eravamo vi ho detto anche questa info ora scappiamo a isola perché manca pochissimo e il sole lo saluto allora dopo essere stato inseguito da un da una cagnolina ferocissima che mi ha bagliato tutto il tempo sono entrato da quella porta lì mi sono dovuto abbassare per entrare all'interno della torre l'unica rimasta più o meno integra qui di isola mentre tutto il resto invece di mura ce n'è ben poco è rimasto veramente ben poco mentre qui all'interno della torre devo dire che mi sento proprio un cavaliere in questo momento adesso ero di nuovo assalito da questa cagnolina però per oggi il giro finisce qua e quindi se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale ci vediamo mercoledì prossimo alle 19 e seguitemi su instagram mi raccomando ciao 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 ciao